Se sei un progettista di parchi e di giardini, controlla subito la bassa disponibilità di materiale viveistico a disposizione per i tuoi progetti, prima di dare sfogo a tutta la tua creatività. Potrai valutare l'impiego di piante giovani o esemplari a maturità e produrre computi metrici estimativi velocemente. Navigando sullo strumento Wiki, invece, potrai trovare ispirazione e supporto tecnico. Se invece hai bisogno di professionisti qualificati per la realizzazione e la manutenzione dei tuoi progetti, hai la possibilità di visitare le vetrine dell'area giardiniera. Se non trovi i prodotti di cui hai bisogno, puoi pubblicare annunci gratuiti per allertare i vivaisti iscritti e ricevere offerte personalizzate, uno strumento utilissimo per ridurre i tempi di elaborazione dei preventivi.